eccoci e bentornati sul mio canale oggi finalmente vi posso rispondere a una domanda che mi state facendo veramente tantissimo negli ultimi giorni ma con tutti questi update di call of duty infinite warfare quando verranno rilasciate le statistiche di gioco all'interno del titolo bene finalmente ci sono notizie confortanti appunto per quanto riguarda le statistiche di infinite warfare e la notizia me l'hanno riportato i miei amici di call of duty italia infatti activision appena rilasciato un sito che ancora in versione beta dove è possibile tenere in traccia delle proprie statistiche di gioco vi lascio qui sotto il link così potrete andarlo al vedere al momento come vi dicevo si tratta di una beta quindi le funzionalità al momento sono ancora limitate potremo vedere infatti soltanto le statistiche settimanali come le ultime partite giocate ed un sommario generale dove potremo vedere il numero delle uccisioni le morti gli assist e il numero delle partite vinte inoltre è presente anche una sezione dedicata a call of duty black ops 3 con le stesse statistiche vi lascio qui sotto in descrizione il link del sito così potrete andare a vedere tutte le vostre informazioni per quanto riguarda call of duty infinite warfare modalità multiplayer e non appena ci saranno novità sul rilascio all'interno del gioco tornerò con un video dedicato e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale Grazie a tutti.